Erano nascoste proprio all'interno di questo muro 150 dosi tra eroina, cocaina ed ascice già confezionate e quindi pronte per lo spaccio. A scoprire questo magazzino dello stupefacente sono stati i carabinieri di Arezzo. È successo lo scorso sabato nel cuore del centro storico Aretino, nel quartiere di Colcitrone, in manette finito un magrebino di 22 anni per detenzione, finì di spaccio di sostanza stupefacente, il giovane poi risultato irregolare sul territorio nazionale. Le indagini erano partite da alcune segnalazioni di cittadini che avevano notato il 22enne trafficare vicino al muro. Era così scattato un'attività di osservazione portata avanti dai carabinieri di Subbiano assieme a quelli della compagnia di Arezzo. I militari dell'arma, grazie all'unità cinofile del nucleo di Firenze, hanno così individuato il nascondiglio che il pusher aveva ricavato nella parete accanto alla sua abitazione. Complessivamente sono stati sequestrati 38 grammi di cocaina, 24 di eroina e 8 di hashish, già suddivisi in circa 150 dosi pronte per la vendita. Altra droga è stata poi trovata nel corso della perquisizione e il 22enne aveva nascosto altra sostanza supefacente nelle mutande e in un pacchetto di sigarette. Il giovane questa mattina è stato processato per direttissima, l'arresto è stato convalidato.